Anziché attendere, agisce. Anziché guardare al passato, pensa al futuro. Anziché chiedere aiuto, tende una mano, ma non per sopravvivere, per ripartire su altri livelli. Lo spazio IAC non sarà più lo stesso. Lo spiegano Stefano Beghi, anima di Caracorum Teatro, e i colleghi, gli amici, gli enti, le istituzioni che si apprestano a lanciare con lui una sfida potenzialmente rivoluzionaria, sia nella forma, sia nei contenuti. C'è il comune di Varese, sì, ma ci sono anche il fondamentale gigante Cariplo e la fondazione comunitaria del Varesotto, c'è il Politecnico di Milano e c'è la privata Eolo. Compagni di viaggio di poco autorevoli, a fianco di una piccola realtà come IAC, gli artisti che hanno portato cultura e spettacolo nel quartiere Varesino delle Bustecche, il rione popolare per eccellenza, per nulla turistico, poco commerciale, ma affamato di eventi, assetato di bellezza, a caccia di risposte sociali, educative, artistiche e aggregative. Nella consapevolezza che portare cultura significa portare vita, significa rigenerare, rivitalizzare, vivacizzare tutte le altre parole che suonano in antitesi con disagio, degrado e marginazione. Per questo alla conferenza partecipano anche altri artisti di questa e di altre città. Manifattura K, la bolognese BAM, la milanese Oies, l'attrice e autrice Varesina Angela De Mattei, passando per la cooperativa Biplano di Vedano Olona che fornirà scenografie in legno realizzate apposta dai suoi abili assistiti. C'è la cucina Altamura perché il cibo è arte, proprio come quella espressiva, e perché uno dei pochi effetti benefici di questa spaventosa emergenza è la riscoperta della bottega sotto casa, del negozietto, del fornaio che porta il pane e ti chiama per nome. Ma dal punto di vista pratico, cosa sarà lo Yak Round, nato ufficialmente oggi con questi autorevoli compagni di viaggio? Sarà un progetto pensato ancora prima che il Covid ci rovinasse l'esistenza, quando Beghi e la sua squadra pensarono fosse necessario introdurre una nuova idea di teatro, che non si rinchiudesse entro le mura stabili, ma che uscisse, si diffondesse, occupasse diverse aree, diverse zone, gli interstizi delle case popolari, le vie più decentrate, i giardini e i parchetti quando fa caldo, le case, gli atri, i capannoni dismessi quando fa più freddo. In parallelo, ecco sbocciare una sfida nella sfida, la valorizzazione del digitale, che non può trasferirsi dal palcoscenico alla piattaforma, ma può inventare storie e raccontarle a grandi e piccoli. Ma quando si comincia? Beh, subito. Basta uno sguardo al sito carcontheatro.it per farsi un'idea dei tanti appuntamenti già in calendario. Insomma, Spazio Yak cambia passo, perché quel che oggi è per tutti inevitabile, per il team delle bustec, è da tempo giusto, doveroso e necessario, per scuotere la cultura delle convenzioni un po' impolverate, per archiviare un approccio elitario a corto di idee, ma munito di spazi, e per portare qualcosa laddove non c'è mai stato niente. Gli chiediamo, il progetto Politeama? Bello, interessante, un giorno sicuramente attuabile, risponde Stefano, ma adesso, con le mascherine in volto e le distanze minime, quel sipario appare lacerato. L'arte più integra e dinamica torna ad essere sperimentale, e perché no, anche un po' sfacciata, e solo il tempo, il riscontro e la sostenibilità dell'operazione potranno dirci se il nuovo spettacolo sta davvero per cominciare. Grazie. Grazie.